Buon passaggio profondo per Kocic, va Kocic, grandissima Per Gioia, addoppiato numero 4, buona palla, un lato per Kocic Kocic che è andato vicinissimo al gol del pareggio, palla intercettata da Rubei che va un'altra volta a calciare, ci pensa quindi Simone Lauri esplode, la gioia della panchina della Capitolina Marconi per il 2-0 di Capitano Lauri E quindi finisce la prima semifinale con la vittoria della Capitolina Marconi sulla Virtus Palombara Attenzione qui errore, Zeppoloni, Zeppoloni salta al portiere, ancora Zeppoloni la mette dentro Il vantaggio, Milenia Chimera Valdasteroni si gira, ecco il bacino, va a riaprire il match proprio al numero 10, Francesca Valdasteroni Nuovamente, sferla tra le braccia di Caruso, per l'alcia, attenzione qui forse ballo Valdasteroni, Valdasteroni, incredibile, incredibile al Palacio e Saroni Sotto di due gol, vanno a fare il 3-2 Ed ecco che arriva anche il triplice, fischio dell'arbitro Salutato con un voato qui dal pubblico del Palacio e Saroni E' la vittoria della Palacio e Saroni Buonasera e benvenuti al Palacio e Saroni di Genzano Per la seconda di queste Final Four di Coppa Lazio Si libera Di Costi, poi torna indietro Pallone di Grassi Arriva subito il gol dell'Ido di Ostia Con il numero 10, Maurizio Grazi Prova lui ad inventare qualcosa, la mette in mezzo E' buono il tocco di De Nichile Ancora Fred, entra in aria col tocco sotto E questo è un gol fantastico Il 2-0 di Fred Poi il pallone recuperato, prova Fratini Proprio lui, con il destro E subito accorcia le distanze Proprio lui, Roberto Fratini, il gol dell'ex Fratini Pallone messo in mezzo, prova Girazzi Cararini E questo è un fantastico gol del numero 22 Pallone sul destro E qui, occhio, pallone perso Mariani, dall'altra parte c'è Alfonso Ancora per Mariani E arriva il 4-2 per il Lido di Ostia Fuzzal Per la formazione di Dimito Che adesso si appresta a battere Il calcio di punizione con Grassi Pallone respinto Ma arriva il fischio del direttore di gara Finisce qui, non riesce la Lazio Con il suo rembaggio finale A pareggiare i conti Finisce 4-3 Qui al pala Cesaroni In favore del Lido di Ostia Fuzzal Che quindi si prepara ad affrontare la finale Benvenuti e buonasera dal pala Cesaroni Qui per la seconda semifinale di queste Final Four Di Coppa Lazio Di fronte a Visfondi contro il Virtus Ciampino Tanto De Luca Scivola sulla fascia Mette la palla dentro De Luca In qualche modo ribattuta dalla difesa Poi è Signoriello Annalisa Signoriello Che porta in vantaggio le cassellane Per Pisello che ora supera un avversario A buono il break Salta un avversario Poi va sul fondo Ancora Pisello Non riesce Spara addosso al portiere La palla dentro Il gol di Spiriti Ma grande azione di Sofia Pisello Feliz Fondi Tanto De Luna Un gol fantastico della numero 11 La palla gli è arrivata sul piede Direttamente dal calcio d'angolo Ha colpito al volo col destro L'ha messa alle spalle di Etanasio Scambia con Cavaliani Ancora De Luca Salta Bene Popolla Poi De Luca È fronte alla porta De Luca Ne salta un'altra Entra in area di rigore Col destro Mette ancora a sede Treglia De Luca Il gol con il sinistro Esulta la sua maniera Con il cuore Silvia De Luca Salta due avversari E poi la mette Alle spalle di Etanasio 6 a 0 Per la Virtus Ciampino Una partita A senso unico Che ha visto trionfare Le ragazze di Zaccagnini Ricordare qualcuno Vendicarsi di una scoffitta Battere la maledizione Raggiungere un obiettivo Con un anno di ritardo La Coppa Lazio di C1 È giunta al Palaccio Saroni In attesa di un nuovo proprietario Capitolina Marconi E Lido Di Ostia Fuzzal Sono pronte A metterci le mani sopra E vincere I propri demoni Sfida ancora una volta L'altro 1-10 grassi Da per Rubei Rubei Il tocco dentro Per Petrucci E poi Becchi La rete Nella Capitolina Marconi Che va in vantaggio Con i suoi Under 21 Calcio d'angolo Rubei Picchia dentro il pallone E arriva Maurizio Cerchiari Maurizio Cerchiari Segna il 3-0 Esci una dal momento Del calcio in porta Occhio ad Angelini Che possa attraverso E Angelini lo fa Angelini Il palo pieno Palla che danza Pericolosamente Sulla linea mediana Ma non c'è più tempo La Capitolina Marconi Con una Final Four Praticamente perfetta Riesce a portare a casa La Coppa Il primo trofeo dell'anno Nella regionale 5 i gol fatti 0 Quelli subiti La Capitolina Ha vinto con merito Buonasera amici di Futsal Funder e benvenuti Al pala Cesaroni Di Genzano Dove per la finale Di Coppa Lazio Categoria femminile Si stanno Per affrontare Briciola E Virtus Ciampino Corner dentro E la Signoriello Trova il gol Del vantaggio Il contropiade Guidato adesso Dalla De Luca 3 contro 2 La De Luca Può andare al tiro E trova il raddoppio Silvia De Luca È lei Che mette la firma C'è la De Luna Sola dall'altra parte Col Mancino Si deve Superare Claudio Acaruso Per tenere accesa Una fiammella Dolore il 2 contro 1 C'è Jessica De Luna Che la chiude qui 3 a 0 Della Virtus Ciampino Che si è divorata L'impossibile E arriva Il tre vice fischio Del direttore di gara La Virtus Ciampino Battendo 3 a 0 La briciola Si laurea Campionessa Della Coppa Lazio La Virtus Ciampino